Lavoratori in nero scoperti dai carabinieri in aziende, dell'edilizia, del commercio e dell'agricoltura della provincia. I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso nel corso di una serie di accertamenti hanno sospeso l'attività di sei ditte e multato altre imprese per un importo complessivo di 230 mila euro. Dieci lavoratori sono stati trovati del tutto privi di coperture previdenziali e assicurative, alcuni dei quali stranieri irregolari in Italia. Da sottolineare anche varie circostanze in cui non erano rispettate le misure di sicurezza sul lavoro e le normative igieniche. Oltre ai cantieri edili, gli accertamenti hanno riguardato esercizi di parrucchiere, di vendita di generi alimentari e del settore primario.